Forna anche quest'anno la sagra della porchetta italica a Campri, siamo alla 52esima edizione, la più antica d'Abruzzo, comunque tra le più antiche. Assolutamente sì, la nostra sagra, quella della porchetta, rimane una sagra storica insieme ad alcune altre della nostra provincia. Allora sono 52 edizioni, la sagra è del 1964 e ogni anno raccoglie un numero importante e imponente di persone nel nostro centro storico. Un grazie particolare alla Prologo che organizza insieme al comune di Campri la sagra della porchetta. Per noi è l'occasione di promuovere il nostro prodotto, per cui siamo anche conosciuti, ma anche l'occasione per mettere in evidenza e in mostra le bellezze del nostro centro storico. Quest'anno ci saranno anche degli eventi collaterali, ci sono novità per questa edizione? Eventi collaterali sono quelli della musica che accompagna ovviamente le serate della sagra, ci saranno sicuramente alcune altre novità, ma la cosa importante e centrale è proprio quella di passare una bella serata nel nostro centro storico, degustare la nostra porchetta e trascorrere appunto Spencerati, una bellissima serata a Campri. Ricordiamo le date? 18-23 agosto, vi aspetto tutti a Campri.